buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale ho comprato recentemente un flash per la mia reflex io ho una nikon d5300 e non sono un professionista è una reflex una entry level una buona entry level non è una macchina professionale fa dei buoni video io nella mia ignoranza sono riuscito a fare con questa macchina delle belle foto soprattutto all'esterno non ho fatto corsi quindi se avessi molte più competenze avrei ottenuto sicuramente dei risultati migliori all'interno chiudi chiudi la porta venite che c'è oggi arriva il nostro robot e all'interno invece dentro le case in chiesa sto parlando del flash che comprato per la macchina fotografica che utilizza un suo flash integrato e ragazzi lo sapete che oggi arriva il robot di christian aspettate che finisco di parlare di questa cosa però all'interno appunto non vengono benissimo le foto sicuramente un professionista saprebbe farle venire bene lo stesso e allora ho provato a comprare questo flash per vedere se vengono un pochettino ma cos'è questo flash ve lo faccio vedere e questo aggeggio qui si chiama Newer aspetta farlo vedere amore non troppo vicino si chiama Newer e l'ho pagato 45 euro cosa è questa cosa qua? vediamo cosa c'è dentro questo è il flash ma lo faccio vedere dentro ci sono le istruzioni queste sono le istruzioni c'è questo che e oggi faremo un altro video e oggi quando arriverà il nostro robot faremo un altro video faremo un altro video che apriamo il nostro robot pixie questo non lo so utilizzare e poi mettere probabilmente il copri ma voglio farlo vedere prima ok ragazzi così e lì mi trovo per i caletti ho preso anche un display e poi dentro alla scatola ma sai che ho scaricato già l'app di pixie io avevo già aperta la scatola di là ragazzi pure c'è un altro cos'è? c'è la pedana dentro la scatola ho trovato anche questo la stoffa per pulire ho trovato anche faccio vedere io vuoi vedere? il telecomando perché questa aspetta prima il telecomando questo è aspetta lo faccio vedere il fuoco dammi devo farlo vedere il fuoco e le batterie queste sono le batterie aspetta che sta facendo vedere il telecomando ma sto cercando di farlo vedere a fuoco no troppo vicino amore queste sono le pile e anche questa ma perché non si vede mai a fuoco? guardate questa è toro ragazzi adesso vi farò farò delle foto prima senza flash e poi con il flash così magari in questa camera qua così capiamo se effettivamente può dare un valore aggiunto o meno il nostro nuovo flash ciao a tutti venite a salutare ciao oggi faremo un altro video oggi faremo un altro video col drone ma non col drone io voglio farlo col Rob ma per finta Cristian stiamo scherzando ciao ciao a tutti mettete i pollicini in su ciao 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 ciao